Accompagnata al pianoforte dall'autore del brano con Come farai, Mafalda Greco! Ciao Mafalda, ben arrivata! Buonasera! C'è una presenza che ho già visto. Sì. Vogliamo presentarlo nelle vesti di musicista? Certamente. Giampiero Personè. E allora, Come farai? Nei pensieri che valgano Tu rimani comunque vivo Le speranze il domani e adesso Sono via con te Resti qui nei pensieri miei Non è facile immaginarlo Questo sole che guardo adesso Tramonta via con te Ma come potrai respirare senza noi So che non riuscirei a dormire senza me Come vedi è tardi ormai Questo sole è tramontato Ma il raggio di un'altra Ma il raggio di un'altra Ricorderai Ricorderai i miei occhi Solo per te E allora, come farai ad amare Solo per te E allora, come farai ad amare E allora, come farai ad amare A respirare E allora, come farai ad amare E allora, come farai ad amare